Buongiorno a tutti e benvenuti in un altro appuntamento con Luca Di Scacciati, siamo al terzo ormai. Come stai Luca, tutto bene oggi? Ciao, tutto benissimo, grazie. Se non erro ci inoltriamo su un territorio estremamente esteso, quello del primo mercato al mondo e quindi magari vedremo se abbiamo di nuovo le stesse identiche view sul futuro. Ma infatti piace molto questo format dove uniamo l'analisi che faccio io con il Forecaster con le tue analisi cicliche evolute, quindi siccome tutto il mondo si sta chiedendo se l'S&P 500 continuerà a salire o inizierà a scendere, proviamo a vedere cosa dicono le nostre strategie di analisi. Ecco, fammi condividere lo schermo, andiamo sulla pagina dell'S&P 500 nel Forecaster dove appunto dalla pagina overview vediamo che siamo proprio sui massimi storici praticamente performance incredibile negli ultimi anni, davvero un mercato incredibilmente rialzista. La primissima cosa che vorrei farti vedere è questo. Come sai, oramai il Forecaster un pochettino ha imparato a conoscerlo, noi abbiamo l'analisi fondamentale di tutti i titoli del mondo e abbiamo quindi anche l'analisi fondamentale delle 504 compagnie che creano, che formano l'S&P 500. Ecco, prendendo il fair value di ogni singolo componente dell'S&P 500 siamo in grado di vedere quello che è il fair value, quindi il valore intrinseco dell'intero indice e nonostante siamo sui massimi storici, in questo momento l'indice è ancora sottovalutato e questo è un qualcosa di estremamente interessante perché si vede proprio la differenza tra, per esempio, le top 10, le posizioni top 10, che sono sopravvalutate del 14%. Top 10 quindi parli solo di NVIDIA praticamente? Top 10 abbiamo all'interno delle top 10 questi 10 titoli che sono Microsoft, Apple, NVIDIA, Alphabet, Amazon, Meta, eccetera. Se andiamo invece a prendere tutte le azioni, quindi tutte e 500, vediamo che ce ne sono ancora tante che hanno un potenziale molto alto, tanto che nella sua totalità l'indice è sottovalutato. Questa cosa è molto ben visibile se andiamo a vedere il COT report. E' una di quelle cose che quando mi hai fatto vedere estensivamente il Forecaster mi è piaciuto da pazzi, soprattutto sulle commodity e adesso appunto non vedo l'ora di rivederlo insieme a te appunto a livello di dati che cosa ci racconta il Forecaster. Guarda, qui siamo nella parte dove vediamo i dati del COT report degli asset manager e gli institutional. Cosa sono e chi sono gli asset manager e i institutional? Sono i grandi fondi tipo i fondi pensione e la cosa che vediamo è che non sono mai stati così tanto rialzisti i fondi pensione e stanno continuando a comprare, stanno continuando a mettersi long appunto sui future dell'S&P 500. Cosa molto diversa invece da quello che era successo per esempio nel 2021, dove se andiamo a vedere i dati ci accorgiamo che su tutta l'ultima fase di rialzo dei mercati e poi anche sull'inizio del ribasso gli institutional avevano cominciato a vendere le loro posizioni perché? Perché nel 2021 su questi massimi evidentemente il mercato era un po' sopravvalutato. Quindi parliamo di divergenze quando guardiamo il COT report. Con una divergenza capiamo già che se si sta comunque salendo a livello di grafico ma gli acquisti appunto degli asset manager iniziano a scendere magari si avvicinano a storm. Esatto, questo è molto interessante perché se vedi la posizione netta è sempre positiva degli asset manager non sono mai short, esatto, devono essere proprio anche per legge investiti però possono liquidare e rimanere liquidi sostanzialmente ed è quello che hanno fatto nel 2021, non lo stanno facendo adesso. Sembra proprio che abbiano visto il forecaster e anche loro pensano che il mercato è ancora sottovalutato. Il forecaster è che prende i dati direttamente dal sito del COT report, mi avevi fatto vedere. Esatto, esatto. Quella la figata, solo che li mette in modo molto più comprensibile e organico rispetto ad andare appunto sul sito come stai facendo e andare a prendere quella slepa di dati di. Esatto, infatti io lo ricordo sempre per chi non lo sapesse questo è il sito della CFTC Commission, questo è il COT, noi non facciamo nient'altro che tra l'altro lo permette di fare la CFTC Commission, puoi prendere i dati direttamente dal sito e lo ricordo sempre il COT report non è niente di magico, è un report che è stato creato per aiutare il pubblico a capire le dinamiche del mercato. Lo scrivono proprio a grandi lettere, quindi è davvero uno strumento potentissimo. Però se lo vedi sul forecaster riprodotto con un grafico è estremamente immediato, se invece ritorni alla pagina di prima... È certo, è abbastanza complicato capirci qualcosa. Non è l'unica cosa del COT report che ti voglio far vedere, perché se andiamo a vedere i leveraged fund che sono i fondi edge, noi adesso abbiamo visto i veri istituzionali, quindi quelli che investono e stanno long sempre, i fondi invece edge, gli edge fund, sono quelli che fanno trading, ok? Quindi che speculano e cercano di guadagnare dai movimenti anche un po' più brevi del mercato. Ti faccio vedere una cosa, perché da questo grafico si capisce che spesso e volentieri gli edge fund sbagliano ed è il motivo per cui spesso si trovano gli articoli che dicono guardate che i fondi non battono l'indice, ok? Una delle cose che ti dico mi aveva lasciato veramente stupito era che quando erano nati i primi edge fund, io ero ancora un ragazzino, compravo, c'era un giornale che si chiamava proprio quello degli edge fund, andavo poi a guardare i rendimenti e dicevo scusa ma io ti do un sacco di manleva, puoi andarti a comprare i palazzi se vuoi con i soldi che ti do perché te ne do una quantità micidiale per entrare nell'edge, soprattutto all'epoca poi hanno abbassato le somme eccetera eccetera, e fai il 4% in un anno quando il resto del mercato fai il 30%. Ah, bella roba il edge fund, complimenti. Infatti, guarda, ti faccio vedere questa cosa, perché se partiamo ad analizzare quello che è successo dal 2022 in avanti, proprio sul mercato e sugli edge fund, vediamo che appunto nel 2022 gli edge fund effettivamente si erano accorti che il mercato stava iniziando a cambiare direzione e da rialzista stava diventando ribassista, tant'è che proprio su questo massimo gli edge fund come vediamo si sono posizionati molto short e hanno avuto ragione perché poi il trend effettivamente è sceso e i prezzi sono andati a fare un nuovo minimo. Cosa è successo poi? Ci hanno preso gusto, perché su questo secondo rimbalzo si sono fatti trovare ancora più short. Il compratone, eh sì. Esattamente, hanno veramente shortato pesantemente il mercato e fino praticamente dopo l'estate hanno anche avuto ragione, perché effettivamente i prezzi hanno fatto un nuovo minimo. Se tu ti ricordi, questo che stiamo vedendo era il periodo in cui tutti parlavano di recessione, tutti parlavano che il mondo sarebbe finito, tutti... Non c'era nemmeno un video YouTube che diceva che il mercato sarebbe salito. C'era qualcuno che stava dicendo che si chiudeva un biennale, ma per il resto... Guarda, io me lo ricordo, esatto, e tra l'altro anche noi qui eravamo rialzisti, ma questa è un'altra storia. Parliamo degli hedge fund. Che cosa è successo? Quando i prezzi sono tornati praticamente su questi massimi precedenti, guarda gli hedge fund come si sono fatti trovare super ribassisti, perché loro pensavano che i prezzi sarebbero di nuovo crollati. Così non è stato, ok? E praticamente i prezzi hanno riniziato a salire. Continua a salire, continua a salire. La verità di questo movimento che c'è in corso in questo momento è che è stato preso completamente in faccia dagli hedge fund ed è un'ottima notizia questa. Perché? Perché tutte queste posizioni che adesso loro hanno ancora aperto short sono da chiudere. E tu, caro Jacopo, mi insegni che per chiudere un'operazione long cosa devi fare? Comprare. Devi comprare, esattamente. Quindi non solo abbiamo gli asset manager che ci dicono guardate che il mercato effettivamente è sottovalutato perché noi non stiamo vendendo, ma abbiamo anche una quantità di contratti short degli hedge fund che devono essere chiusi perché questo mercato continua, continua a salire e molto probabilmente tutte queste posizioni short devono essere chiuse e chiudere vuol dire comprare. Secondo me, caro Jacopo, succederà una cosa simile a quella avvenuta qui nel periodo del Covid. Se tu vedi, anche nel periodo del Covid era successa una cosa simile, ovvero quando i prezzi dell'S&P 500 sono tornati ai livelli del massimo da cui è partito il crollo del Covid, gli hedge fund si sono fatti trovare pieni di short. Lo short non è arrivato, loro pensavano che i prezzi sarebbero crollati, ma lo short non è arrivato e praticamente si sono trovati nell'anno e mezzo successivo a dover continuare a chiudere, 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 chiudere le loro posizioni fin tanto che ad un certo punto addirittura si sono messi pure long, proprio sul massimo storico. Quindi probabilmente succederà la stessa cosa. Adesso ti passo la parola a te. Aspetta, facciamo ancora un'altra considerazione, perché come al solito mi piace ragionare con te e con l'ausilio del Forecaster su cosa ci aspetta, perché parliamo sempre di quello che è successo, lo fanno tutti. Invece il ragionamento quindi che chiunque voglia provare il Forecaster, si può provare gratuitamente con una demo se andate su forecaster.biz, piuttosto che potete avere il codice coupon sconto se decidete di scegliere Forecaster per fare le vostre analisi sui mercati. Potete avere un coupon di sconto del 10% scrivendo MARINI10, MARINI tutto maiuscolo come il mio cognome, 10 come numero 10. Adesso ragioniamo del futuro, quindi se continueremo ad avere massimi di volumi decrescenti, come stavi facendo a vedere prima, cioè la parte... aspetta, no, no, ritorna sui leverage funds. Se continueremo ad avere, in realtà scusami, io parlo di massimi, ma perché vedo il grafico al contrario praticamente. La parte dei volumi arancione, se continueremo a fare i minimi sempre più alti, significa che potremo continuare a salire anche sul grafico stesso dell'SMP500, giusto? Esatto, esattamente, ed è quello che io mi aspetto perché abbiamo iniziato a mettere assieme gli elementi. Sappiamo dall'analisi fondamentale che siamo su un mercato che è sottovalutato, non ce li siamo inventati noi questi calcoli, ma sono le formule che insegnano all'università. Abbiamo la conferma, appunto, dagli asset manager, dagli istituzional, che loro non stanno vendendo, quindi loro li sanno far benissimo i conti, sanno cosa comprano e non sono spaventati da eventuali ribassi di breve, ok? E su pieni soldi. Esattamente, esattamente, quindi loro fanno i calcoli, vedono, è sottovalutato, sì, comprano, benissimo. Quindi, molto probabilmente, il mercato continuerà a salire e gli hedge fund, appunto, dovranno correggere questa posizione fin tanto che, a un certo punto, avranno chiuso tutti questi contratti che gli stanno facendo perdere un sacco di soldi, un sacco, un sacco di soldi. Quindi, i minimi arancioni che vediamo, che stanno, appunto, andando piano piano a salire, dovranno continuare una tendenza, praticamente, a salire. Ecco, quello lì è quello di qua. Sì, secondo me è molto, molto probabile. Guarda, ti metto anche il grafico a linea, che così si vede anche meglio. Esattamente, qui si vede proprio che è iniziato un trend rialzista. Abbiamo i classici massimi e minimi crescenti, quindi si vede proprio che stanno piano piano, leccandosi le ferite tantissimo, chiudendo, appunto, queste posizioni. E la notizia è che il mercato S&P 500, quindi le borse in generale, continueranno probabilmente a salire. Ma la vera notizia è che negli ultimi cinque anni gli hedge fund hanno perso una quantità di soldi incredibili con queste posizioni. Quindi... Non si aspettavano quello che, invece, tra virgolette, era abbastanza, anzi, non era abbastanza, era estremamente prevedibile con l'analisi evoluta. Chiuso un ciclo pluriennale, soprattutto, tra l'altro, fatto S&P 500, con l'unica cosa che ti può fregare, cioè una finta rialzo con ribasso, ossia un raccordo, successivamente parte solo un pluriennale, non ci sono altre possibilità. Quindi andare short è pura follia. Jacopo, siamo davanti all'S&P 500, cosa dicono i tuoi cicli evoluti? Sono curiosissimo. Ah, guarda, come al solito sai che durante i fini settimana disegno quella che è l'aspettativa per i giorni a seguire. Avevo segnalato che potevano esserci due strade che comunque portavano a salire e a tornare sopra i massimi, una diretta e l'altra con un po' di discesa e poi di salita. Come vedi qui, un po' di discesa l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto, cancelliamolo, una candela rossa. E se allarghiamo il grafico, appunto, c'è discesa. Si rimane per due barre sotto questo massimo e quindi c'è persino la possibilità di avere ancora un vincolo rialzista persino solo sul settimanale inverso che abbiamo. Come segnalavo anche, appunto, in passato, fatta la chiusura del primo ciclo semestrale, e qui, come di consueto, trovate le durate cicliche. Un ciclo semestrale, un T più 4, è il primo che compone questo quarto, attenzione, quarto annuale. Un quarto annuale significa un quadriennale che può andare a chiudere, quindi spazio di salita ne abbiamo per il secondo semestrale, perché primo semestrale, guardate quanto è salito, secondo semestrale, pensate a quanto può salire, quanto può salire ce lo dice l'inverso, ossia i cicchi che partono da massimi vanno su minimi e tornano su massimi. Noi siamo arrivati a 219 barre su massimo 336. Non so se abbiamo capito quanto si può salire in termini di borsa aperta. Mamma mia, mamma mia. Quindi spazio rialzo ne abbiamo quanto ne volete, ma facciamo sempre noi attenzione a che cosa, che superato il tempo minimo di 192 barre, tutto ci può finire in faccia, ok? Quindi anche in questo momento a 219 barre l'inverso può chiudere e può iniziare una fase di storno per quanto riguarda il nuovo ciclo semestrale, ok? Però come controlliamo di giorno in giorno se la situazione è peggiore o meno? Andiamo a vedere se c'è una violazione di determinati minimi. Noi qui abbiamo minimi che continuano a crescere insieme ai massimi, ok? Quindi per adesso non abbiamo movimenti significativi. E poi che cosa facciamo? Partendo dall'ultimo movimento che abbiamo avuto, ok? Abbiamo avuto 38 barre che rientrano dentro un mensile di inverso, da massimo, minimo, massimo. Lo disegno che così è ancora più semplice. Da qua a qua a qua, ok? E qua che cosa abbiamo avuto? Qui abbiamo avuto, di nuovo, regole. La cosa più semplice che c'è quando si usa la matematica per fare trading. Abbiamo avuto almeno 6 barre sotto questo massimo, che ci dice partenza di un nuovo mensile, secondo t più uno inverso, ok? Abbiamo avuto la violazione dello swing, per cui se tutto dovesse andare senza intoppi, senza cose particolari, che cosa significa? Significa che questo ciclo mensile inverso iniziato su questo massimo può salire come minimo fino a 24 giorni, quindi fino al 27 di giugno, ok? Durata minima di un mensile, ma potrebbe durare anche fino a 43. Quindi o fine giugno, o se arriviamo a 43 giorni, andiamo fino al 27 di luglio, al 25 di luglio, fine luglio. Adesso ti faccio vedere una roba con la stagionalità che sveniamo tutti quanti. Bellissimo. Ok, fantastico. Ci sono. Guarda, bellissimo. Ti faccio vedere perché voglio proprio integrare quello che hai appena detto. Siamo sempre sull'SMP 500, andiamo nella stagionalità, e ti faccio vedere una cosa. Andiamo a mettere la stagionalità a 10-20 anni, quindi abbiamo 5-10-20, e da oggi fino praticamente alla metà di agosto, ok? Se andiamo a vedere le statistiche di questo mercato, guarda qua di cosa stiamo parlando. Siamo in una finestra temporale che statisticamente in passato è salita praticamente sempre, perché negli ultimi 20 anni il 70% delle volte è salito con una media di ritorno del 3.6%. Caspita ragazzi, 10 anni e 5 anni 80%. È tantissimo, è tantissimo. Cioè ti rendi conto, capito, che infatti volevo sapere a che punto erano i tuoi cicli, perché volevo avere questa conferma, perché abbiamo un mercato ancora sottovalutato. Abbiamo gli istituzionali che non vendono, anzi che, come vi ho fatto vedere appunto sul COT di prima, ve lo faccio rivedere, eccolo qua, non sono mai stati così tanto rialzisti nella storia. Cioè questi sono tutti i dati del COT disponibili, degli istituzionali. Incomprensibili soprattutto. Esatto, e guarda come sono in alto. Cioè quindi hanno veramente comprato tanto e non stanno vendendo, ok? E la stagionalità, guarda qua, anche proprio a occhio nudo si vede. Quindi, bello. Sai che cosa? Cioè la cosa bella è che effettivamente tornano tantissimo questi, sia la stagionalità che la ciclicità, e danno un'idea di quanto magari si possa andare oltre effettivamente quelli che sono i luoghi comuni. Selene Mangoway. Esatto. Pirca, diciamo. Esatto, esatto. Selene August, che è meglio. Esatto. Calemay. Dovremo inventare un nuovo detto. Perché poi invece la fine dell'anno è rialzista, eh? Il rally di Babbo Natale c'è sempre stato statisticamente. Però adesso siamo in una finestra temporale davvero interessante, e sono molto molto contento che anche i cicli evoluti dicano la stessa cosa. Ti dico presente che tra l'altro vedo anche un minimo ad ottobre, e se io vado appunto a vedere sul mio grafico, ma non c'è bisogno che ci ritorniamo, va benissimo rimanere lì, un semestrale può andare a chiudere, dunque, il semestrale è 96 giorni, e se io tiro la mia linea, a 96 giorni arrivo a settembre, durata minima per la chiusura del semestrale, posso arrivare a 128 giorni, e con 128 giorni, da minimo a minimo, arriviamo a, te lo dico subito, al 22 di ottobre. Preciso. Preciso. Come per gli ultimi 5 anni di Forecaster, pazzesco. Bene, Jacopo, direi che anche questo giro abbiamo visto qualcosa di interessante. Io ricordo a tutti quelli che stanno vedendo il video, Marini 10, e link in descrizione per il Forecaster, e basta, ci vediamo alla prossima. Fantastico, ti ringrazio ancora, per questo video, mi fa molto piacere ritrovarci, soprattutto perché, come ricordo a tutti, Luca è stato un allievo dal vero del migliorino, non sui libri, non ha messo mesi con il migliorino, e quindi, dato che tutto è iniziato da lì, insieme a Hurst, è bello averti con noi su questo canale. Ti ringrazio ancora. Ti sei il degno erede del grande ingegnere, dai. Non esageriamo, non esageriamo. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Buona giornata ancora.